E' già finito il giro? No, non lo finirò. Ma lei si rende conto di chi siamo noi andando? Certo, ed è proprio la gente che ci serve. Persone che controllano il territorio e che i siciliani rispettano. Tenente, i siciliani non si sono mai ribellati contro la mafia. Non lo hanno fatto prima, non lo fanno adesso e non lo faranno in futuro. A loro va bene così e anche noi. Il nostro obiettivo è di arrivare a Berlino e sono disposto ad allearmi anche con il diavolo se necessario. E se cosa che oggi penseremo amici, domani diventano il nostro amici. Chiacchiere, tenente, sono chiacchiere. Noi abbiamo un problema da risolvere ora e si chiama Adolf Hitler. Quello che succederà domani non mi riguarda. Ora finisca il lavoro che l'ho ordinato di fare. Almeno il lavoro finisco qua, manore. Tenente, questa insubordinazione è. Lei si rende conto che sta rischiando la corte marziale?